Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi ragazzi vi spiego come moddare la vigilante mantenendo lo stesso tipo di ruota e cambiando solo il cerchio Perché ragazzi come ben sapete quando moddate le vigilanti il glitch cambia la tipologia del cerchio e fa schifo I requisiti sono ragazzi lo yacht, LS Autorad 1, la possibilità di baggarci all'arena il veicolo da moddare e il veicolo da sacrificare Quindi ragazzi prendete il veicolo che volete usare come matrice quindi da dove volete prendere le modifiche e dovete fare un piccolo step Infatti io vi consiglio di moddare prima una Dominator che è gratis ragazzi, poi andate su ruote, andate su tipi di ruote, lusso ragazzi Cerchioni standard e una volta che siete qua mettete le ruote standard e selezionate Una volta che avete selezionato avete preparato la macchina per colorare i cerchi della vigilante ragazzi Così è l'unico modo per fare le vigilanti con i cerchi colorati Quindi a questo punto non dobbiamo fare nient'altro che andare da LS ragazzi E una volta che siamo da LS che abbiamo portato il veicolo all'interno Apriamo il nostro menu di pausa, andiamo a cercarci l'attività più vicina ragazzi e ci trasportiamo dall'arena Potete anche andarci raga a piedi col veicolo del civile, con lo sparro L'importante è che non sia un veicolo personale così avete già l'auto da cui prendere le modifiche all'interno di LS A questo punto una volta che siamo arrivati davanti ragazzi alla biglietteria cosa facciamo Clicchiamo ragazzi freccia destra e quando siamo in questa schermata Gli diciamo a un nostro amico di avviare un lavoro da titano e di invitarci dal menu PS o dal menu Xbox ragazzi Se non riuscite potete anche partecipare su di lui L'importante è che sia in una sessione ad amici raga Perché se hai inviti il glitch non funziona Comunque una volta che o avete partecipato o vi ha mandato l'invito E avete accettato l'allerta e siete in questa prima schermata raga Accettate la prima allerta Quando finisce il terzo boom raga accettate anche la seconda allerta A questo punto quando spawnerete sarete senza la minimappa raga Se vi siete invece sbuggati in qualche maniera vi ha aperto l'attività eccetera potete riprovarci Vi fate mandare a questo punto un invito dentro LS da un vostro amico raga E una volta che siamo all'interno di LS cosa dobbiamo fare? Semplicemente diventare CEO raga che è fondamentale Poi vi comprate raga la vigilante E una volta che vi siete comprati la vigilante potete dire al vostro amico di avviare la gara sprint A questo punto una volta che poi saremo raga spawnati nella gara sprint Ce ne andiamo dallo Santos Custom Una volta che siamo arrivati qua dallo Santos Custom Apriamo il menu interazione Andiamo sulla sicuro server che vi ho detto di diventare prima E vi chiamate il buzzard Aspettate due secondi che spawni E poi a questo punto raga Entrate dentro LS Dentro lo Santos Custom A questo punto clicchiamo B o cerchio Per tornare nella schermata di uscita E quando siamo in questa schermata Teniamo premuto triangolo o Y Saremo in questa schermata nera Come al solito raga Come il car to car E a questo punto dovremo partecipare Su qualcuno in mira differente Io userò Anawak Accetto il primo Rifiuto il secondo E accetto anche la terza allerta Sarò in piedi dentro lo Santos Custom E a questo punto esco fuori E salgo sul buzzard raga Una volta che sono salito sul buzzard A una certa ci rimanderà a posto Come ben vedete E a questo punto dobbiamo mandare poi al deposito Il nostro veicolo personale Quindi a questo punto ci dirigiamo dal nostro yacht Una volta arrivati allo yacht Apriamo il nostro telefono E chiamiamo il capitano ragazzi Una volta che avete chiamato il capitano Potete richiedere il vostro veicolo personale E a questo punto andate a richiedere la vigilante Una volta che avete richiesto la macchina Aspettate che spawni nella minimappa in bassa sinistra E a questo punto potete fare un respawn Triangolo o Y ragazzi E sbada bam Avremmo colorato ragazzi I cerchi della vigilante Che normalmente non si può Quindi a questo punto Prima o meno interazione Ci richiediamo raga L'Avenger Per poter salvare il veicolo Facciamo quittare l'attività al nostro amico E una volta che abbiamo fatto quittare l'attività al nostro amico Noi potremo andare a salvare la vigilante All'interno dell'Avenger ragazzi Quindi lasciate un like Lasciate un commento Supportate Xavix Supportate il canale E alla prossima Sbada bam Sbada bam Sbada bam Sbada bam Sbada bam Grazie a tutti.